E' un bel esempio di collaborazione tra il mondo accademico e il mondo clinico, quello tra l'ospedale di Bergamo e l'Università di Camerino. Per celebrarlo e per fare il punto sulle sfide che attendono il farmacista del Servizio Sanitario Nazionale, a Bergamo si è svolto un evento di cui parliamo con Carlo Nicora, direttore generale dell'ospedale. Dottor Nicora, per la quinta volta l'ospedale Papa Giovani XXIII ospita il Master in Farmacia Ospedaliera organizzato dall'Università di Camerino. Come mai questo binomio? Perché è importante avere giovani farmacisti che si formano all'interno di una struttura pubblica? L'importanza è che l'Università di Camerino è un punto di riferimento nell'ambito della farmaceutica territoriale ospedaliera. Il connubio nasce dal fatto che l'Accademia ha scelto un ospedale dove da anni il processo e il percorso del farmaco e del farmacista dentro l'ospedale è organizzato e quindi l'opportunità di dare ai giovani farmacisti che cosa? Di ascoltare quello che accadrà in futuro e quindi di formarsi e nello stesso tempo di vedere sul campo operativamente che quello che noi raccontiamo e diciamo è poi fattibile. Questo è importante perché la professione, qualsiasi professione, si studia sui libri, si apprende nei convegni ma poi ci vuole qualcuno che te la insegna facendoti sporcare le mani. Ecco perché del connubio di cinque anni. Senta, lei nei confronti dei farmacisti delle strutture pubbliche ha delle aspettative molto elevate che ha spiegato appunto durante l'apertura dei lavori. Ce le può raccontare? Il farmacista è parte integrante della offerta sanitaria che i grandi ospedali, i piccoli ospedali, il territorio ormai dà. I bisogni sono bisogni emergenti. Non possiamo più pensare di gestire la sanità a compartimenti stagni. Il farmacista è presente in farmacia, è presente in reparto, è presente nell'ufficio di controllo di gestione, è presente in direzione quando si fa la pianificazione e la strategia. Questa cosa bisogna narrarla, raccontarla, dare evidenza. Ecco perché abbiamo quasi 500 giovani e a questi abbiamo detto che ci aspettiamo da loro due cose. Da una parte che acquisiscono questa capacità professionale, queste competenze manageriali, questa conoscenza del mondo che cambia e dall'altra parte che siano loro i motori del cambiamento e quindi loro stessi siano elemento di stimolo per il direttore generale, per l'ufficio di direzione, per i nostri pazienti. Come conciliare appunto l'innovazione con la sostenibilità? Domanda classica cui forse è sempre più difficile rispondere. Questa è la sfida che devono affrontare i giovani farmacisti con noi che abbiamo compiti di responsabilità. È chiaro che il farmacista e il mondo della farmacia ospedaliere territoriale ha come compito quello di dare la migliore terapia, la terapia più innovativa a tutti i nostri pazienti, a tutte le nostre famiglie. Come, dove e quando? In un contesto di sostenibilità. Noi abbiamo i danari che abbiamo, che lo Stato dà le regioni, le regioni danno alle aziende. Dentro questo contesto dobbiamo muoverci. Ci sono tanti spazi, da come si fanno le gare, da come si acquisiscono i farmaci, dal mettersi insieme, da fare gare centralizzate. Lì ci sono possibilità di, non di recuperare degli sprechi, ma c'è possibilità di disinvestire in alcuni ambiti e con quel danaro che si recupera investire in altri. Questa è la capacità di interpretare i nuovi bisogni e con fatica, perché la sfida è faticosa, trovare delle risposte. Poi, quando riusciremo a fare questo, andremo a bussare a avere qualche danaro in più.